Sono 37 i comuni in Toscana dove il coronavirus non si è affacciato su un totale di 273, 17 invece quelli dove c'è soltanto un contagiato. Si va dal piccolo comune di Chianni, in provincia di Pisa, a Palazzuolo sul Segno, alla confine con l'Emilia Romagna, fino a Gaiola in Chianti, in provincia di Firenze. Tanto che il sindaco Michele Pescini ha avanzato direttamente al presidente del Consiglio Conte la proposta di far diventare Gaiola il primo comune italiano a sperimentare la fase 2, quella della riapertura delle attività e del progressivo allentamento delle restrizioni anti-covid. L'autocandidatura di Gaiola è contenuta in una lettera sottoscritta da cittadini illustri, spinti dallo stesso senso del dovere che abbiamo dalla memoria del barone Bettino Ricasoli, presidente del Consiglio del Regno d'Italia dopo Cavour, si legge nella lettera, ci candidiamo ad aprire ed essere esperimento avanguardia di una nuova Italia. Gaiola può diventare un progetto pilota del governo per far ripartire subito la mobilità delle persone, riaprire le cantine, le imprese locali, i cantieri. Crediamo che il nostro paese abbia bisogno di esempi virtuosi di una Italia minore che ha conservato valori e rapporti umani. Potremmo ripartire subito, per primi, insieme ad altri piccoli comuni a contagio zero o molto basso, fornendo un esperimento utile per l'intero paese. Attenzione, però, dice Repubblica il coordinatore dell'Agenzia regionale di sanità, Fabio Voller, le epidemie non si possono leggere per singolo comune. Basta considerare la mappa degli spostamenti del virus in Italia per rendersene conto. Cercare soltanto dentro ad un comune le ragioni dell'assenza di contagiati rischia di portarci fuoristrada e di far considerare significativi elementi che in realtà non lo sono stati realmente. Prima di dire che un'amministrazione è stata brava ad evitare il contagio per aver appreso certi provvedimenti, bisogna considerare molti altri fattori, come quelli della provincia di appartenenza, delle aree limitrofe. Se il virus per qualche motivo finisce per arrivare in queste realtà, spesso lontane, fragili, con un'età media molto avanzata, l'effetto può diventare ancora peggiore.